Francesco Cange è un giovane di essa che si sta cimentando in questa nuova dimensione dopo Città di Castello e Vasto arrivato alla Pianese dove sta lavorando con grande entusiasmo e con grandi risultati. Tanto siamo partiti col piede giusto, con l'entusiasmo giusto e cerchiamo di cavalcarlo. Come abbiamo fatto in queste prime giornate, viviamo la quotidianità, ci godiamo questo entusiasmo, cerchiamo di curare tutti i particolari durante la settimana e affrontiamo partita dopo partita. La formazione a Miatina è davvero l'antiarezzo del Girone? Adesso in queste prime dieci giornate la classifica dice questo perché se non era per noi l'arezzo aveva sei punti di vantaggio penso da tutte le altre inseguitrici. Noi siamo contenti, ci siamo prefissati all'inizio di fare un campionato per far divertire il presidente, Maurizio, che ci mette a disposizione tutto per poter far calcio perché comunque non ci manca niente sotto il punto di vista dell'organizzazione, è una società presente. Sicuramente diciamo che anche personalmente è una società che ti lascia lavorare e sono poche le società così, quindi noi vogliamo farlo divertire. Poi è normale che i ragazzi in questo momento hanno entusiasmo e dobbiamo essere bravi, non abbiamo le pressioni che hanno altre società, quindi noi ci possiamo permettere anche di fare qualche passo falso, dobbiamo capire gli errori quando faremo i passi falsi. Però per queste dieci giornate sì, penso che siamo noi la squadra che sta tenendo vivo il campionato. Grazie a tutti.